Il calciomercato ironico, il mercato degli antignani. A Napoli ci salvò per il mercato dell'antignano, noi siamo due. Giustamente, quindi non un solo antignano, ma gli antignani passano. Ma poi peraltro abbiamo scoperto che il calciomercato è molto più bello del calcio giocato, perché tu spari 5.000 nomi. Poi uno di questi sembra... Ma io l'avevo detto, come fanno tanti esperti i calciomercati, l'avevo detto per prima.